Salve colleghe e colleghi, sono sempre io Fabrizio De Iorio della lista Giornalisti Italiani Uniti di Stampa Romana e questo video appello era per fare quattro chiacchiere con voi e magari fare un po' di chiarezza tra coloro i quali si presentano come innovatori del sindacato. Mi riferisco alla lista controcorrente, una lista fatta in maggioranza da colleghi e colleghi di grande spessore. Il problema è, ma controcorrente rispetto a chi? A cosa? Perché chi è controcorrente dovrebbe stare contro le oligarchie, contro il potere, contro quelli che gestiscono il potere e invece sono tutte persone che il potere lo esercitano da anni se non da decenni. Quindi controcorrente, già in nome, lascia veramente a desiderare. Ma andiamo a vedere i nomi dei candidati all'Associazione Stampa Romana, cioè come delegati al congresso. Dischino Maurizio, consiglio direttivo ASR TV2000. E' un ex sidiano all'interno del Consiglio Direttivo di Stampa Romana. Sidiano significa che si riferisce alla corrente vicina a Franco Siddi, che è stato l'ex segretario della Federazione Nazionale della Stampa fino a qualche anno fa. Fino alla firma dell'ultimo rinnovo contrattuale, quello del giugno del 2014, esattamente del 24 giugno del 2014, quello che è stato chiamato l'ammazza giornalisti. Quel contratto è stato, diciamo così, la pietra tombale sul giornalismo professionale. E cioè ha regalato agli editori, ha fatto un favore agli editori, quindi alla FIEG, a fronte di nessun tipo di rivendicazione per i giornalisti contrattualizzati. Ma nemmeno per quelli che erano, diciamo, fuori, quindi ai margini, cioè collaboratori, articoli 2, precari, freelance, lavoratori autonomi. Quelli sono rimasti al palo. Ma i contrattualizzati, cioè quelli che oggi o dal 2014 sono entrati, diciamo così, nel lavoro, i giornalisti, i giovani giornalisti, prendono meno, come stipendio, diciamo, di entrata, molto meno di quelli che entravano fino a prima del 2014, che sono entrati in attività lavorativa fino a prima del 2014. Non solo, ma il grande regalo che è stato fatto da questi sidiani, che ora si presentano alla lista di controcorrente, è proprio anche la svendita degli istituti previdenziali come la ex fissa. E cioè il giornalista non avrà più la ex fissa, che è un istituto previdenziale che, diciamo, si fidelizza il giornalista a quel giornale, che dopo 10 o 15 anni prende una sorta, diciamo così, di buonuscita, di pensione integrativa. È come se fosse una piccola pensione integrativa che l'editore paga il nome per conto del giornalista. Ecco, quella è stata svenduta. E la cosa più grave che, diciamo, è stata fatta da questi della lista controcorrente, quindi dai sidiani, quindi c'è il dischino, ci sta Fiore Angelica che è del Tg2, poi ci sta anche Gagliardi, come dimenticare Gagliardi, Gagliardi Francesco del Consiglio Direttivo, un grande, come dire, collega del giornale Conquiste del Lavoro. Beh, il regalo che hanno fatto, oltre, diciamo, al fatto che non c'è più la ex fissa, è che praticamente i diritti sono stati totalmente, diciamo così, limati e svenduti agli editori. Ma questo mi sembra, diciamo, come dire, controcorrente. No, mi sembra assolutamente, diciamo, con la corrente. Cioè, a favore degli editori, a favore del potere, è Franco Sidi affermato. Io, insieme ad altri colleghi, sono quello che ha impugnato questa delibera del 24 giugno del 2014 di fronte al Tribunale. In primo grado è stato, il giudice non è entrato nel merito e ha sostenuto che praticamente noi che avevamo fatto ricorso non eravamo legittimati perché non eravamo iscritti alla Federazione Nazionale della Stampa, non sapendo, o forse omettendo di sapere, o forse facendo finta di non sapere che chi è iscritto alla Federazione, alla Stampa Romana, o quindi alle associazioni regionali, è automaticamente iscritto anche alla Federazione Nazionale della Stampa perché noi paghiamo lo 0,30 sul nostro stipendio per sostenere questo sindacato che però non ci rappresenta più e non rappresenta più neanche i freelance perché quei freelance che non sono stati inclusi in quel rinnovo contrattuale e nemmeno, diciamo, in quell'equo compenso che è una legge che per fortuna il Tar e il Consiglio di Stato hanno abolito ma che comunque non tutelava in ogni caso i giornalisti che collaboravano e collaborano con i giornali, con le televisioni, con le radio. perché 350 o al massimo 400 euro lordi al mese per 30 articoli più o meno è veramente una miseria e anche un insulto alla professione e naturalmente a tutte quelle migliaia di colleghi e colleghe che lavorano come son papiers del giornalismo e non hanno alcun diritto, nemmeno quello di chiedere un giusto compenso. Bene, questi sono, diciamo così, i nuovi che si apprestano a chiedervi il voto e noi di questa nostra lista di giornalisti italiani uniti ci presentiamo a stampa romana ci potete votare dal 12 al 16 dicembre e vi chiedo, indagate, non fidatevi delle lusinghe non dite, forse anche un po' per pegrizia, per indolenza sì, va bene, diciamo, vi voterò ditevi e chiedetevi ma che cosa avete fatto voi per i giornalisti? che cosa siete? qual è la vostra corrente? sono decenni che occupano poltrone all'IMPG, alla CASAGIT alla Federazione Nazionale di Stampa alle associazioni regionali all'ordine dei giornalisti sono decenni, sono sempre gli stessi ruotano, fanno una sorta, diciamo, di eteratrino si scambiano le poltrone allora io dico a voi che avete l'occasione di farlo questa volta non li votate non votate quelli che sono controcorrente e fanno finta di essere i nuovi è uno maquillage gattopardesco gattopardesco perché sono sempre gli stessi e siccome hanno probabilmente qualche interesse anche personale per stare sempre lì vuol dire che c'è qualcosa che guadagnano loro personalmente e con gli altri che sono fuori non se ne occupano assolutamente e fanno i loro interessi ma magari anche legittimi ma sicuramente non a favore della categoria quindi io vi chiedo di pensare che con un click dal 12 al 16 dicembre li potete bocciare mandare a casa e finalmente affermare la categoria dei giornalisti liberi autonomi, indipendenti e che non badano e non guardano alle poltrone grazie e buona serata